Giorno a tutti ragazzi, qui c'è con voi il Craco52 Oggi siamo qui su Darkest Dungeon per fare la fattoria, la Endless Mod Che nella Endless Mod ci sta una boss fight unica Come abbiamo il solito party, poi ci sta anche l'evento delle virtù aumentate Quindi è il momento giusto per farlo, anche perché non ho voglia di fare altre missioni Anche perché non ci sono altri incontrocenti Ok, andiamo Prendiamo tutto quanto il cibo Prendiamo dell'Hornor, questo serve perché ci sta la gente che mette lo stress Non mi ricordo se servono le vanghe però le prendo uguali Queste non mi riprendono che queste Prendiamo le erbe Prendiamo le bende E prendiamo questo Prendiamo tutto In realtà è meglio prendere tutto quanto abbondare Facciamo una travanga E basta dai Vai Uhuh Il povero Miller Rice è una vittima Le season hanno avuto la sua vività Io hanno avuto la sua terra E ora, un po' di anni dopo Il Comet ha avuto la sua umanità Il mio solo regno è che non vivi per vedere questo Mugnaio Smasse in pezzi Con la miracolosa monta che ho avuto da fuori il cibo E' già Adesso ci sta di nuovo da ammazzare il mugnaio dopo Dai Andiamo avanti Avanti Cominciamo questa Questa roba Hola Abbiamo possibilità di virtù Allora Prima cosa da fare Questo La prima cosa da fare Subito Così aumentiamo il crit Per tutta quanta la quest Fin quando non c'è la pausa Quindi lui è tipo super baffatissimo adesso Dovrebbero shottare tutti Gli ho tolto il Come posso dire Gli ho tolto il colpo di pistola Gli ho tolto per mettere quella roba lì Facciamo così Ecco cominciamo 40% di critico Va bene Mi riesco a mettere di blight Ok Bello Quanto è 7 Continua così Adesso lui critterà Schifo critterà Già Minchia Tu continua a curare Che non c'è nessun problema Dovrei mettergli repost Però Vabbè Non è un problema in realtà Tu cominci a togliere lo stress Qui Hola Ma non lo so Vai avanti qua Ok Tu Tu Mori Mori così Ok Tu vai avanti e metti repost Fantastico Proprio Perfetto Oh no c'è la pietra rispostante Tu fai così Ammazzo Questa skill qua ha tanto critico in realtà Più 8% di critico Porca troia Continua a fare così Perché ha protezione? Perché ha protezione? Accesso Ah gli ho messo il colpo Mi dimentico le cose che faccio Va bene Pure il vest al crit Ma dai Ma dai Guarda 40% Dai Critato crit? No Vabbè Abbiamo praticamente un 50-50% di fare il critico Vabbè Bravo Minchia Allora Tu fai così Ma tutti hanno un 50% di fare il critico 32 No questo qua è il gran finale Vabbè Mori va E poi facendo il critico Non lascia neppure il cadavere Quindi non ci sono problemi Di alcuna sorta Con i cristalli Che fanno casino E' molto bene Molto molto bene Uh il quadruplo Le quadruple agenti Tutti i blight Ehm ma si scoppia così Potevo ammazzare il secondo Boh vabbè Non cambia niente Dobbiamo comunque ammazzarli tutti Quindi non c'è nessun problema Studiamo lui Che è l'unico che non ha il blight Ok Ma basta Eh Succa Semina Eh vabbè 22 di stress Gesù santissimo Ma Ma siamo impazziti Ma dai Ma per favore Allora tu metti Fai così Tanto questo si toglie Via Lo stress da solo praticamente Però glielo tolgo anch'io Che l'aiuto sempre Allora Questo Quanto fai tu di danno Fa 7 a 14 Quindi non c'è nessun problema Mori Ok Tocca il Vestal Fai così Il minimo danno che può fare è il 7 Quindi Possiamo Guardalo 3 harder Guarda che cazzo di 3 harder Oh Siamo già nella pausa Ecco Siamo già nella pausa Questa Ah è la Dello stress Bello Ma andiamo avanti Ah Ci sta lo spaventapasser in stealth Vai Uff Adesso dovrò Eh sì infatti Adesso devo Devo ridargli Ma scusami Ma che cagata Utilisi per battaglia 1 Ma vaffanculo Non conta Maledizione Ho sbagliato Ma quindi non conta come battaglie Ma scusa Mi sembrava che contasse come battaglie Vabbè Pazienza Che palle Cos'è che è questa roba Ristoro Veramente ristoro Ma questo è un 3 harder Ma guarda questi Guarda questa gente Ma scoppia Dai non stiamo a dire cagate Sì Non ha Vabbè Mi sembra strano però Perché dovrebbe contare come una battaglia sola Quindi l'heper l'abbiamo fatto Perché posso Posso stunarlo? Perché posso stunarlo? Non capisco sto gioco Oggi Oggi sto gioco è ubriaco Vabbè Vabbè tanto Ma Fa un favore Puoi ammazzare lui Mi dà un fastidio Che cura Questa della cura Non la sapevo Sinceramente E' spinto Vabbè ci sta Ok Allora la prossima Oh madonna Si è fatto Tu La bottiglia Dal caldo Allora la prossima pausa Gli devo mettere L'altra skill Allora a sto punto Visto che non si può usare Ma vabbè Pensavo fosse Vabbè Ho sbagliato i calcoli Insomma Questa che fa Questa che grita Questa che grita A caso Allora Ammazza questo Tutti che grittano Ma non lo so Altra abilità Accessori No vabbè Vabbè Pazienza va Vabbè Vabbè ci sta Dai tanto Tu fai così Cos'è che fai tu? Ah fai stress Schivato Altra gente Tu Vai così No ma sto attacco Critta troppo Ma che cazzo è? Ma per favore No tu lasciala vivere Aia Che poi hanno Forse ho capito Cosa togliere Forse Ho un'idea Ho un'idea Ho un sol Aspetta Devo guardare Si No non è neanche sbloccata Vabbè Pazienza Vabbè dai Dai Semina Altro 64 di stress Mi sembra un po' tanto Eh Ma finalmente cominciano a A colpire il Vestal Fai così Questa critta sempre Questa critta sempre Tu fai così Ok siamo già quasi alla seconda pausa Ok Chi è che tocca? Tocca Cura va Con un pochino Ma basta Ma vanno su sto attacco qua Sì Ok Il trattempo di spazio Sì dai Mancia Avanti I colori mutano Incantevole Cos'è incantevole? Possibilità di morbo Possibilità di morbo Nemici Ok E cambia Cambia la musica Cambia Che figo È anche un gioco spessissimo Cioè oltre Di fare Tutte e due missioni qua Non è che C'è tanto da fare Mi sono dimenticato di nuovo Di tolmettere Sono un coglione Sono un coglione Ma basta Sono un incompetente Basta Non c'è niente da dire Ok Tu Mi pinci a togliere lo stress qua Che tanto In due stressate Le due stressaggini Ok Veramente Più lo stun Che faccia da culo Veramente guarda Sono senza parole Scoppia va È la prima volta che non crita Sto attacco Incredibile Lui è scoppiato Sì Sì Quindi Curiamo Ho sbagliato Beh Pazienza Beh no i briganti No Devo mettere post Prendi No 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 Metti le post No Perché Io ho premuto le post Ma porca troia Dai Che stronzata Quanto danno fanno Cinque Vabbè Non fanno tanto danno Però potevo ammazzarli entrambi Se critava Hanno fallito tutti e due Il debuff Quindi Sono un po' stupidi Ok Sì vado Allora tu Fai così Ecco adesso non posso più fare le post Ma cazzo Ma critarlo dovevi Che noia Adesso non posso fare niente Vai avanti Colpo precisoso Qua Sei Quanto fa questo? Schivato Va bene Va bene Va bene Continuiamo a curare tutti Il generale Dossa Quattro Stacchiamo ancora Ok Questo Facciamo così Poi facciamo così Non ha fatto tantissimo danno in realtà Eh Mi riesco a costruirlo Sì Ok Mh Mazza Questi qui devono morire Non so perché li ho lasciati vivere questi due qua Vabbè Che debuff è? Schivata Che brutto debuff Allora Allora Con calma eh Si può fare Tu Tu fai così Tu Fai così Oh finalmente Mettiamo sto cazzo di repost Uno permette di due motivi per prendere l'Iwayman Mettere repost Ok Questo scoppia Grazie No perché su di lei Perché su di lei Ma non Non vale Non vale Mazzò Adesso devo Fullarla Fai così Ecco E' anche buono Che abbia ammazzato lei Il cristallo Dai Una cura Una cura rapida Grazie Puoi non fare 3000 di danno Ok Preferisco questo Guarda Lo preferisco meno In realtà I gargoi Vabbè Fanno un po' schifo I gargoi In realtà Hanno tipo 6 HP Cioè 14 Tanto Quindi siamo Nella zona Dei nemici Delle rovine Insomma Perché ogni Ogni pausa C'ha i nemici Di una Di una zona 16 di critico Doppio Porca mutana Cosa fa questo D'ultimo Ah fa solo questo Questo deve smettere Di critare Però eh Cioè Per favore La smettiamo Se è morto Sì Mori va Cioè questo Ha critato Sempre ha critato Ma va questo Scoppia va Ma fanno una sega Di danno Fanno questi Potrei chiudere La kill Chiudiamo la kill Dai Piuttosto E non escono Neppure cadavere Quindi Vabbè Salve Desidera Ciao Mildred Mildred È la moglie Del mugnaio È Allora Più 40% Contro il mugnaio Allora Chi è che lo vuole Lo vuoi tu Lo vuoi tu Chi è che lo vuole 40% Contro il mugnaio Tu lo vuoi Lo vuoi tu È la moglie Del mugnaio Che 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 tristezza Però Che tristezza Inaudita Che però Non c'è il mugnaio Perché mi dai il trink Di mugnaio Non c'è il mugnaio Vabbè dai Sti cazzi Oddio mio Sti cazzi Dai C'eravamo culo Alla prima Ci dava il trink Di mugnaio Contro il mugnaio Però questo Non so Cosa Cosa mi Dovrebbe servire Adesso Incontriamo Il mugnaio Oh Finalmente È tornato Quindi Alla fine Alla fine Ti dà Ti dà il buff Alla fine Che vabbè Non ho ben capito Però almeno Dà resistenza Al morbo Porca troia Cos'è che Dà almeno Dà resistenza Sì Dà resistenza Al morbo E tra velocità Che comunque Anche Non essendo Contro Cioè Anche Da solo Questo trink qua Non è male In realtà Cioè Resistenza Al morbo O lei Che non ha Niente resistenza Cioè Parliamone Quindi Sto trink è Anche singolo Non fa schifo Dai Cominciamo a crittare Tutti Ok Va bene Dai No basta Basta Dai Per favore E la madonna Santa Ma perché Ok Respinto Respinto Marchiato Vabbè Questo mi va In affinzione Questo Bastardo E cominciamo Un buff Ok Puoi morire Per favore Mi fai questo favore In gigante Repost Vrai a 1 HPA 1 Ma che tristezza Scoppia va Ammazza Ok Vediamo dai No No dai Moni Uh Ah Molto bene Sarebbe di cosa sarebbe bello Sarebbe bello se uno Colpisce uno con repost E si Si reposta una vicenda Sarebbe Sarebbe Molto ridile Allora Allora Fai così Il cavallo Di merda Come ha fatto a non colpirlo Però vabbè Non gli ha messo Il morbo Vabbè Pazienza dai Tu comincia a togliere Sta roba Quella qua stiamo andando Molto Molto In 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 Non so parlare Stiamo andando In pericolo Stiamo andando Con lo stress Uh Basta dai Non è possibile Ogni volta Metto Moriva No Si No Ehm Quanto da di round Ma facciamo così e basta Maledetto infame Fai così Ma è Lo sapevo L'ultima Vabbè Lo sapevo io Che dove Eh vabbè Un shuffle Vabbè pazienza Dello shuffle Non mi interessa Non mi interessa Lo shuffle Allora Tu Tu devi stare tranquillo Di stare molto tranquillo Devi stare Tu fai così Oh ma Li mettiamo Il morbo Sto cavallo Del cazzo No Dai Non ha senso Per favore Un'altra volta Oh ma attaccano sempre Le ewe man attaccano Io l'ho data La cosa Si che gliel'ho data Bossa da scaduta Ok Semina Vabbè Ok Tira gli semi addosso a lui Che 27 di stress Ok Sparagli Che Oddio In realtà Il vestal prima Non ha senso Logico di esistere Però Vabbè Eh Avanti Dobbiamo metterci a posto Che va prima No 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 Horror Eh Li ho portati a posto E l'audano L'ho portato a posta No E lui Ha un'azione gratis All'inizio round Infame Uh Ok Tu Fai così Dopo tu Ti do questo Ti do questo Ti do questo E siamo a posto Dire vero o no In realtà Non siamo a posto Si stanno impegnando Per bene Succa Lo succa fortissimo Devi stucare Non farti crittare di nuovo Ok Maledetto infame Allora Fai così Ok Oh Finalmente ne ha messo il morbo Gesù santissimo Scoppia va Anche il bleeding Allora Chi è 35 48 Tu Vai E tu cura Tutti Bene Scoppia Salve Pietra Molto gentile Allora Tu Mettiti questo Per favore No Questo qua Ehm Campeggiamo Oddio Non so Se questa Adesso questa Li viene Questa qui Li viene L'incubo qua Oh che palle Allora Facciamo Così 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 Sbaffiamo Le women a cannone Non so Ok grazie Almeno quello Almeno quello Il colore Il colore Deformano Brillante Eccolo Eccolo Brillante Di san momento Hacco i nemici Della Della Baia Ah Di san momento Abilità di cura Minchia Non ho il coso Però le bende Poi qua Adesso In fuori Il granchio In fuori 43 di critico Se a caso Questo fa 17,29 Con 31% di critico Tu vai avanti Per favore Ok Minchia Ma Ma Scusatemi Scusatemi Perché Perché ha fatto 20 Perché Perché ha fatto 20 Questo uomo qua Anzi questo pesce Non questo uomo Maledetto Sto attacco qui Mi ha coppato uno Che ridere Tu Fallo fuori Grazie Tu Fa fuori questo Non c'è sempre meglio Mi ha spida 9 Tu quanta 6 Vabbè ci sta Tu Non so cosa dirti Ammazzare Ammazzare No Vabbè Ci sta Ci sta Ci sta Non sto qui a sindacare Ah basta con sti briganti Ogni volta Allora Tu fai avanti Uffa Con sti briganti Del Cassius Tu Vai avanti Tu Questo qua è il brigante Di wolf Questo Che è mortissimo Proprio in maniera Aggressiva Ammazzare Eh Comincia Lo stress Comincia a staccarsi Un po' troppo Eh Io dico sta cosa E cominciamo a essere Anche piuttosto Lo Allora Facciamo così Non lo so Non so cosa fare Perché hanno aperto La porta qua Anzi L'hanno sbattuta Non so se si è sentito Hanno sbattuto la porta Con violenza Non inaudita Ma Ok Eh Eccoli Bastardi Che non siete altro Mori Eh Ma facciamo così Allora Molto bene Guardate quanta roba C'è un papiro C'è un papiro gigante Ma questa cosa Fa troppo ridere C'è un papiro gigante Di roba Sull'highway man Ok Facciamo così Così magari chiudiamo La kill Grazie Ah Ancora sto stress Schivato Suka Io stunno lui Così almeno Non cominciano a fare Ste porcate Io guardo te Tu guardi me E vabbè Sto sbaglio Tu sei già morto In realtà No Però posso fare Di questo Posso fare Eh Spezza guardia E in stealth Bastardo Infame Però facciamo così Allora Perché devo targetare Quello che Prende la guardia Quindi Però in stealth Infame Come Mamma mia Tutto questo stress Gigante Non fa bene La mia salute Letteralmente Fai così Ma che due tanconi Ma che palle Dai Cos'è che vuoi difendere Ma perché vuoi difendere Ma non ha senso C'è quello Vabbè Che questi due Che si difendono Grazie Pietra Io stavo combattendo Qua Ehm Fai così Chi è che tocca Chi è che tocca Cosa Cosa succede Ah salve Desidera Mori Sì ok Perché gli faccio Il sanguamento Porca troia Chi ha 207 Ok Sto Allora Con calma Eh Sapevo C'era un motivo Se ce lo dava Riesco a stunnarlo Io ci provo Eh vabbè Uno ci prova sempre Allora Questo Cosa è C'è la guardia No Non fareste porcherie Stress Oh Tenga Allora Mettiamo repost Perché ci sta Dopo l'attacco ad aria Poi facciamo Fai così Cos'è che impedisce Abitare di difesa Vabbè Se io faccio così Ti offendi Grazie Gentilissimo Non so cosa fare Spara Non mi hanno in dubbio Magari Le chiamo del maestro Ma questo Stronzo State Altro horror Vabbè Ancora stress Vabbè Quanto cazzo Altro horror Fortuna che l'ho presi Fortuna Ecco la mititura Allora Cosa possiamo fare Possiamo ammazzare lui Grazie Poi facciamo così Molto bene Tu Tenghi Fai così E l'audano Viene usato poco in realtà Però in questa zona È molto buono E Va tu Cura e basta Andiamo avanti Bando Schivato Grazie al post Se lo popi come skill Però Va bene Va bene Va bene Cosa che fa succedere Metti la pietra Ripostante Ma quanto stress Quanto Soffri Vaffanculo Dai Comincia a togliere stress Questo c'ha Mille mila di danno Vuoi morire Mugnaio Dai Per favore Non è cattiveria adesso Ma io ti faccio danno Non mi interessa Bravo Ok Cosa che fa adesso Questo bel uomo No Uff Quanto danno Però C'è fatto No un'altra volta Ah basta Perché ha fatto la mietitura due volte Stronzo Non devi farlo Fai così Dai 17 HPA Mori Gentilissimo Eh Vai Tu cura tutti Adesso dobbiamo arrivare in fondo qua eh Dobbiamo arrivare in fondo Scolto 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 Grazie Gentilissimo Avanti Questo c'è ancora Alle battaglie Conta Perché adesso Sono nel Wild No Wild Nel War Nel Dedalo Siamo Allora Conta come Cos'è che conta come battaglia Uno di questa conta come battaglia Probabilmente si Tu Non so cosa ti Ti fai così Grazie Tu Spara Perché non puoi sparare al primo Che è cazzata Faccio che fai così allora Tu fai così Si sta questo Questo mi preoccupa un sacco Questo qui Questo Questo il prima Mi preoccupa un sacco Proprio Mamma mia Paura Si lancia suina Dai Ti do io il suino Nel naso Scoppia Letteralmente Scoppia Tu fai così Magari prendi quello in fondo Molto bene Tu Stunna lui Che è l'unico Che non ha niente E tu cura E cura Distressa Non fare altra roba No No Basta Basta Mi caco in mano E questo va indietro Poi va avanti Poi va indietro Va avanti Indietro Avanti Indietro Allora Mori Ok Tu Distressa lui Ok Fortuna che i nemici non fanno tantissimo stress in realtà A parte sto qui Quanto ha? 12 Per fortuna Cura E lui Per un po' Adesso mi fa Adesso critta Sono sicuro che critta No Non ha crittato Mi fai cacare in mano Te lo dico Fai così Vorrei installare un minimo in realtà Fammi installare Posso installare Ok Che quanto ha questo? 2 Eh Non so Non so neanche se ne vale la pena in realtà Eh Ma Dio mio Dio mio Perché Mi fai ste cose? Non me ne sto mai zitto Scoppia Stronzo Eh Non so se come viene Bua Critico subito Maggi Sant'Signore Dai Cominciamo di nuovo a mettere questa roba Che fastidio Guardate Ma io me ne chiamo Meglio devo stare zitto quando gioco a sta roba Zitto devo stare Porca troia Uffa Allora Scoppia 50 di grid 50 nel naso Purtà Così Nel naso Mori Suino Dai Lo sto vomito E palle Dai Non stiamo a rompere il cazzo sempre Non dobbiamo girarci tutti quanti le zone Dio mio Tutti dobbiamo girarcele Respinto Dai Non state facendo una sega nulla Oh Perché non me ne Perché Porca troia Mori Ok Tu fai così Grazie Ammazzato il suino Stronzo in fondo C'è che dico Tu fai così Ok Ho preso Questo qua Che bene Male non fa Tu Non sai chiuderlo Hai chiuso Sì Un attimo che bevo Un attimo Vedete Allora cazzo Comunque Ho preso Tutti i laudani Però Cioè Non potete darmi Così tanto horror Per favore Dai Questo c'è ancora Un papiro Ogni volta Prodo Stunarlo Forse Forse no No Infatti Dica Ancora Questi Gente Vaffanculo Altro che Che madness Sporca Trovo Io la madness Comincio a dire Cazzate Tutto il giorno Adesso Viene sciapiarli Grazie Due no 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 Eh vabbè Lo scorbuto Quanto è Cos'è lo scorbuto Merda No Ma per brutto E' terribile lo scorbuto Sai che dico Perché Ah perché c'è il coso Perché c'è questo C'ha Ignora fruttività Ma mannaggia me Ma anch'io che cazzo Perché Ignora fruttività Ovvio che può prenderli Dai Mori Ma che cazzo Ma io se non dico Cazzate Vabbè Ci guardiamo Intensamente Ci guardiamo Ah se non ci guardiamo Perché non Non lo vedono Quanto pare Pietra time Dai pietra Aiutami pietra Ah Mangia Sì vabbè Non serviva Però vabbè Altra gente Sì Fra poco Fra poco Finisco con i buff Eh Ok Intanto Ammazziamo lui Intanto Sicuro Posso usarlo di nuovo? No Non lo so Tu Focus a questo in fondo Per favore Tu Dai Buff No 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 Perché mi out speeda il vestal? Perché il vestal è così lento? Eh Non lo puoi dire perché il vestal è così lento? Gioco del cazzo Stunna questo Grazie Ma perché è marchiato? Perché spara lui? Boh vabbè Non è marchiato Spara quell'altro Dai Tu sei scoppiato? No Allora Scoppiamo lui E scoppiamo lui Molto bene Tu Cura questa Ehi là Allora Ehm Dai così Chi è che tocca prima? Allora ammazziamo la pietra Ammazziamo la pietra Non ha senso Però è così che funziona Ammazziamo la pietra Oh Tutti fullati Tutti stanno benissimo Tutti che critano Ah là Radici Radici? Che attacco era? Non l'ha mai fatto Vabbè Mori tu Ce la fai Se gli ha messo il bleeding Tu fai così Così piglia anche il primo Adesso dovrebbe Togliersi lo stealth Ehm Non so Tutti stunno stronzo Vabbè Eh 140% Di possibilità di stun Che cosa fa adesso? Ma basta Basta questo stress Vabbè Siete Sapete che vi dico L'offsetto Non mi interessa Mori L'offsetto Con il gestern Mi sono rotto le palle Ah Fa così Ok Offsetta sta roba Per favore Grazie Grazie Io stunno lui Se ci riesci Dai reciti Ma che palle Non piglia Un cazzo di stun Questa Cosa la dici? Cosa deve Ammazzare De buff Incredibile Vabbè Tu fai così Ancora Mori Dai scoppia Sì Tu Oh minchia Siamo messi benissimo Di stress Ma siamo impazziti Dai Oh Allora stress Succa Mori Tu Ammazzalo Ci riesci Così ti furli pure Ma come già Già la pietra Altre provviste Ah scopo gente Ma quant'è Il medicinale Mi sta dando Ma cosa serve Tutta sta roba Ancora brillante Ma scusa ci sono No No questa gente No 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 che merda No Non cominciamo Con sta porcheria Eh Per favore Non cominciamo Questo qua L'avrò ancora la prima Mamma mia No Questo No No I nemici Della landa No Per favore Grazie Mamma mia Ci saranno 27 giganti Qua C'è una C'è una wave Una volta C'erano Tipo Due giganti E' vero Che questa qui E' vero Che questa stronza Qui Dobbiamo ammazzarla Per forza Perché questa qui Se ci sono cadaveri In campo Li trasforma in questi Funghi Diciamo funghi Non dire altra roba Che impediscono le cure Stronza Mori È a 240% Di Resistenza Stordimento Vabbè Ti stunno questo Oddio mio Che zona di merda E' vero Una zona di merda Questa Porca muttana Oh Che palle Veramente una zona di merda Eh E' Ammazzarla 10 Non morirà mai Questa Che palle Che stuna Non lo so Stuna lui Minchia Neanche un 50 e 50 Prende Oh Ti fai non mi andare No Basta Succa Ah uno di vita Uno Uno di Uno HP Uno Ce la facciamo Grazie Infame Mori Che fammi curare Che palle Tu Distressa lui Come tutto Tutto Un caso di Ma lasciamo perdere Guarda Un elettrocardiogramma Va Sì 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 Allora Eh Cura Vediamo Non fare troppo danno Non fare troppo danno Abbiamo fatto 10 Va bene Ancora I semi No i semi I semi Ok questo è morto Tu ammazza la vecchia Ammazza la vecchia Lo fai così Tu sei scoppiato No Allora Scoppio io Dai Lacerare il marchiato Sono 60 miglia Eh vabbè Cosa dire ti Eh sì Quanta roba Eee Allora Cominciamo a fare Cominciamo a ammazzare Allora Quanta gente Però eh Siamo un po' esagerato Fai così Poi fai Fai così Mamma mia Tutta sta gente qui Tutti i nemici uguali Poi Da più fortuna che ci sono i giganti Guarda No perché non me sto zitto Che non stai zitto No no I giganti ci saranno Aiuto I giganti aiuto Dai Marchiato Può colpirmi da qua Sì Beh vabbè Quanto dura il marchio 60 ore Dai Scoppia Come hai spinto Matteo Do io ho respinto Mamma mia Questo Quanto ci vuole a morire Questo qua 12 È morto Per fortuna Ora 14 di bleeding Pietra aiutami Aiuto Grazie Oh no No mi caco addosso Quando ti Quando ti dà il coso Non è mai un buon segno Allora Fai così 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 Basta Basta Non mi interessa Non mi interessa Niente Andiamo avanti Mi sto cacando Eccolo Oddio mio Siamo arrivati Salve Posso fargli del morbo In realtà Eh sì Quindi Che cazzo facciamo qua Eh Facciamo così Facciamo così Quello fatto è il morbo Questo boss è stronzo Allora Perché spawno i cristalli Poi fa crescere i cristalli Alcuni cristalli Fanno degli effetti Stronzi Il comitore Sarà ammazzare i cristalli Sicuro E lei Farà fuori solo Il cristallo principale Ok va bene Va bene Allora No No tu ammazzare il cristallo principale Se no qua non finiamo più Allora Allora Con calma Adesso è arrivato il momento Clu Tu cosa fai Metti le post Allora Tu stai bene qua adesso Stai bene in avanti Sto puntando il dito Anche se non potete Sì 140 140 Stronzi Proprio stronzi forte Ehm Boh Sparo Mi piace il cristallo fa Ah Il cristallo fa Ah Provelo di robe Ah No Concentrazione ignobile Cos'è che fai tu Ah Ok No cos'è questo Ah Fa danno dare E poi muori Ma questi rossi li posso lasciare allora Fanno danno dare A cinque fa Ok Basta spammare roba Tre azioni per round Porca puttana Dai smettila Che palle però Non è mai in seconda o in terza Sto qua eh Sei proprio un bastardo Sei Mi Quasi Dai Ti faccio uno di danno Ammazzo con lo stun Perché fa più ridere Questo nero Non so cosa va Cosa che fai? Ci fai un altro Ok Boccio l'eterno Fa Si fa riposto su uno Che sta già per morire Stupido Ok Basta Spammare roba Ma troppe Tre azioni per round Sono troppe Dai Che cazzo stiamo dicendo Sai Tu puoi fare così E basta Posso usare il coso? Eh Non lo so Da tu guardo Non credo però Perché conta come una battaglia Per su unica Basta Scusami si è curato? No si è curato O non è una mia idea? Forse è una mia idea Perché ha veramente tanti A capire Gli spariamo un poco In realtà Allora Sti cristalli del cazzo Cosa che fai tu? Ma scoppiano tutti Ah fa horror questo Ok quello nero fa horror Quello rosso fa danno normale E quello verde Mi fai vedere quello verde? Fammi vedere quello verde Faccio così Così ammazziamo qualcuno Magari facciamo Un pochino di slice Allora Ma Faccio più danno così Infatti 58 No No non si cura Per fortuna Almeno quello Almeno quello Guardate Almeno quello Perché sei? Scusami Ah è uno di Il debuff Mi sa che è il debuff Di quello rosso È il debuff Di quello rosso Porca troia Questo da horror No È il debuff Di quello nero E come che mi dà le cose? Le Le Mamma mia Ma siamo impazziti Ma basta Qua è tocca da solo Io mi siedo Posso? Grazie Niente Togli il debuff Per amore di dio Allora Mamma mia Togli tutto Ma togli tanto Mi sembra Come sei? Può curare di 5 Di 5 Di 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 cosa? Di 10 Cura di 5 Scusami Eccolo qui Il dormire No io mi cago addosso No no Senti allora È arrivato il momento Di fare ste cose No 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 Non fare niente di prego Ok Ehm Ehm Dai Dai Non stiamo a fare Mori Scoppia No No Non posso neppure stonarti Che palle Pera forse sì 140 Ma no Ma cura e basta Ehm Scoppia Cosa che fai? Che attacco fai? Cosa mi fai? Gesù santi dio Aiuto Fortuna che è un'azione solo questa Mori Mamma mia Ma siamo impazziti Ma sì dai 12 giù di stress A caso Non mi interessa Full danno Full danno Non mi interessa niente Tu cura Devo mettergli riposta Devo mettergli riposta Sto stronzo Quanto oro hai? Ehm Sì va bene Metti riposta No Non si potevo usare tanto Ehm Quanto vai di Blake? 10-19 Buono Molto buono Ma sai che dico Mena e basta Non fa 3-5 Ma sti stronzo Questo qua Ha Le resistenze Equivalenti Alle cose Ehm Alle Possibilità che abbiamo Di infliggere I danni di stato Ma guarda questo Stai zitta Devi stare Ok Ok non ha fatto critico Non ha fatto critico Ok bene Ma anche mi schiccato Va bene uguale Scoppia Mena lo Bravo Critta Dai Dai Vittu Dai Vediamo se Ma vaffaculo Che palle Va bene Va bene uguale Va bene in realtà Va benissimo Tanto adesso andranno Death Door Probabilmente O forse muore E' morto E' morto In 3 Death Door Grazie Grazie Gentilissimo Sai chi lo mangia Ho fullati tutti Andiamo via Andiamo via Da questa porcata Di posto Mamma mia Ma comunque L'Egueman Repost Cioè Repost Viene repost 24.000 Più 24 Quanti uccisioni mi ha dato Ho fatto solo 80 kg Ho fatto Vabbè Il prossimo Eh va Due mazze Malaria Pure scorbuto Malaria Beh Facciamo All in Di porcheria Vabbè Tanto a sto punto Siamo Siamo dentro Balliamo Grazie Tu Ma va che porcheria Ho ovviamente La probabilità Di curare Fare cura Cura extra Non so parlare Facciamo così Riesco a farne 16 No Neanche per sbaglio Abbiamo questo Abbiamo 102 cristalli Vediamo se si può comprare qualcosa di bellino Allora C'è qualche trinket da porcheria Questo è un trinket da porcheria Via Trinket da porcheria Ma questo è un trinket da porcheria Oddio No Un trinket da porcheria Questo via Vediamo un po' Vai Di qua Che sta parte Langa in culo Langa in culo Sta parte Che fatica Incredibile Allora Vediamo un po' C'è qualche trinket decente De stress Antiquaria Questo Questo è buono Questo Anche questo è buono Più 35% Di stun Un coltista Beh Bersaglio casuale No Meh Bersaglio casuale È una cagata La pipa Meh Proprio da sparo cristallina Meh Questa sarebbe da piare Possiamo prendere due in realtà No Sì in realtà forse Aspetta un attimo che controllo Bisogna Bisogna Perché per l'Iwayman Ci abbiamo 27 trinket decenti Per l'Iwayman Ci abbiamo Ci abbiamo Questo Ci abbiamo questo Cioè Ok Però se compro questa Non è male Però quella per Per il Black Doctor Ci abbiamo roba per il Black Doctor Non credo Sapete Mmm Ma io prenderei Questa dai Sì Per l'Iwayman Ci abbiamo 300 cose Ola Quindi ragazzi Per questo punto di vista Di Darkest Dungeon Abbiamo concluso Se il video vi è piaciuto Non mettetevi piacere Guardate il video Noi ci vediamo Al prossimo video